Oggi vi faremo vedere qualche tecnica Riffonderete per un piccolo che diventa in Thailandia Yeah! Un piccolo di Aspetta E io devo fare un ringraziamento particolare anche a Siglo Che da parte tutto quello che ha fatto Che professionalmente lo sappiamo Gli hanno fatto conoscere due bravissimi ragazzi Ragazzi? Due bravissimi ragazzi che oltre ad essere simpatici Ok, uno un po' così, però Oltre ad essere simpatici, divertentici, eccetera Salutati subito in sintonia E questo è il bello della sua accademia Riesci a creare persone che spingono amicizia subito Questo è bello, sono contento di averli conosciuti Perché sono due bravi ragazzi L'ultimo, è stato uccido con paralelli E poi naturalmente vi saluto a tutti Grazie e grazie a Siglo Sempre avanti? Sempre! Andiamo per partire da questo podcast composto Voglio ringraziare il resto finito Ciao! Grazie a tutti